Ciao a tutti, crisi di coppia, come superarla? Allora il grosso problema delle crisi di coppia è che non vengono intercettate, non vengono intercettate in tempo. Le persone lasciano che il malessere si amplifichi, vedremo poi in quale aree della relazione di coppia. Si amplifica, si amplifica, si amplifica. Non ci si rende conto o si fa finta di non rendersi conto di quali sono i problemi, quindi si preferisce non affrontarli, fin tanto che superando una certa tolleranza poi scoppia. Scoppia come? Scoppia come? Che una delle due persone o lascia l'altro, oppure in tre c'è un'altra relazione. Un'altra relazione poi magari finalizzata a chiudere con la persona. E questi problemi possono essere in diverse aree della nostra vita, possono essere ad esempio nell'area sentimentale, affettivo-sessuale ad esempio, per cui non c'è più comunicazione affettiva, la comunicazione diventa sterile, sporadica, legata soltanto a problematiche di vita quotidiana, ma non c'è più affettività, oppure diminuisce molto, drasticamente, se non del tutto, la passionalità, la sessualità. Ecco quindi in questi due casi bisogna rendersene conto prima, bisogna rendersene conto prima e bisogna affrontare prima. Voi pensate che una piccola, pensate a un, per fare un esempio pratico, un razzo che parte, un missile, qualcosa, che deve seguire una traiettoria e si scosta da questa traiettoria per una piccola angolazione, mezzo grado. Ora, se lo intercetto subito, basta poco per riportarlo sulla retta via, diciamo così. Se invece lascia passare del tempo, sto mezzo grado, diventa un'enormità dopo un po' di tempo, perché cresce sempre di più. Ecco quindi che intercettare subito è la cosa fondamentale per risolvere le crisi di coppia, un po' come veramente nelle malattie. Uno dice al tumore, se lo intercetti, diciamo, appena si manifesta la prima cellula cancerogena, riesci subito a bloccarlo. Se invece lasci andare che le metastasi si diffondano perché non te ne accorgi, questo purtroppo succede, talvolta, poi diventa più difficile guarire, se non talvolta non si riesce proprio. È così nelle crisi di coppia. Quindi bisogna sviluppare empatia, la capacità di percepire quello che percepisce l'altro. Questa è l'empatia. A livello profondo. Se si sviluppa l'empatia è il miglior rimedio per la crisi di coppia. È veramente il miglior rimedio per la crisi di coppia. Sviluppando empatia riesci a correggere, a correggere il tiro da subito. E nel momento in cui riesci a correggere il tiro, nel momento in cui ti rendi conto che c'è qualcosa che non va, riesci a metterlo subito a posto. Quindi l'amore è importante, diciamo, però non è sufficiente. Perché poi dopo un po' ci sono dei cambiamenti inevitabilmente in una coppia. Per cui è importante avere anche un altro parametro fondamentale che è la comunicazione empatica. Quindi dobbiamo veramente imparare, e da entrambe le parti, a metterci nei panni dell'altra persona. Se impariamo questo, riusciremo a risolvere e a superare le crisi di coppia perché le intercetteremo da piccole, diciamo così, appena nate. E questa è veramente la chiave di volta. Altrimenti, sarà sempre possibile, per carità. Ma la strada si fa veramente in salita, si fa veramente difficile. Veramente difficile. Bene, per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale perché al raggiungimento dei 40.000 iscritti ci saranno 10 istruzioni di sessioni gratuite di riequilibrio emozionale con me. Ciao!